29 anni sono quelli passati dalla strage di Via D'Amelio a Palermo dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Valtreddi, Cosina e Claudio Traina. Come ogni anno l'amministrazione comunale di Biancavilla ha omaggiato il magistrato con la deposizione di una corona dall'oro ai piedi del monumento dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, eretto nell'omonima piazza nel quartiere Spartiviale. presenti fra gli altri questa mattina il sindaco Antonio Bonanno e la sua giunta, il neopresidente del Consiglio Comunale Martina Salva, rappresentanti dei carabinieri della Polizia Municipale e delle associazioni di protezione civile GEPA e Security, presente anche una rappresentanza dei ragazzi del Grest e della Chiesa Sacro Cuore, ad impartire la benedizione Don Salvatore Verzi, parroco della vicina Chiesa Santissimo Salvatore. A distanza di 29 anni ancora vivo il ricordo del giudice Borsellino, degli uomini della sua scorta e l'amministrazione comunale insieme alle forze dell'ordine, insieme anche alle associazioni di volontariato, oggi ha voluto ricordare a loro memoria, ha voluto rinnovare il ringraziamento verso questi giovani eroi della nostra patria che ci hanno certamente consegnato una Sicilia migliore. Oggi è sempre più forte il fresco profumo della libertà grazie all'impegno di questi giovani eroi, quindi era assolutamente doveroso ringraziare e ricordare a loro memoria, ma momenti come questi servono solamente da monito, non solo a chi oggi è in prima linea, ma servono anche come ricordo da poter trasferire alle giovani generazioni che invece non hanno visto in prima persona quei fatti assolutamente tragici della nostra nazione che vanno assolutamente ricordati. Proprio oggi guardavo una delle famose interviste del giudice Borsellino, lo faccio spesso, lo faccio ogni anno, e lui assolutamente diceva che la strada prima di quella della depressione deve avvenire assolutamente con una rivoluzione culturale che deve certamente partire dai ragazzi. Solo con una rivoluzione culturale possiamo veramente liberarci dalla mafia e dalla illegalità nella nostra terra.